Oasi Verde, sempre con il sorriso sulle labbra. Con l'avvio del nuovo anno scolastico 2021-2022, in costiera amalfitana, anche il trasporto pubblico si è adeguato agli orari degli istituti scolastici. Sita Sud, l'azienda di trasporto su gomma che opera sul territorio campano, ha fatto partire da mercoledì 15 settembre i nuovi orari delle corse, tenendo conto appunto dell'apertura delle scuole. Un'operazione però che non è bastata a causa del grande numero di passeggeri, non solo gli studenti, ma ad affollare i pullman anche tanti turisti che in questi giorni stanno godendo degli ultimi scampoli dell'estate, mitigata dal fresco di settembre. Traffico in tilt e mezzi di trasporto pieni hanno fatto scattare anche una nuova sinergia tra il settore del trasporto pubblico e quello privato. Su disposizione della regione Campania, infatti, in costiera amalfitana e a partire da oggi, 17 settembre, i pullman pubblici di Sita Sud saranno supportati da altri mezzi di quattro aziende di trasporto privato, Manzi Viaggi, Gena 2000, Fusco Viaggi e Cooperativa Flavio Gioia. Lo scopo è quello di offrire un supporto maggiore alle corse di Sita Sud già programmate per il periodo invernale e di evitare assembramenti durante il tragitto per gli studenti verso la scuola. I servizi aggiuntivi copriranno le tratte da Amalfi a Salerno.